Il dibattito resta aperto anche se le parti hanno di fatto accorciato le distanze. Infermieri professionali, quelli del futuro e università, l'impegno a camminare insieme lo hanno sancito nella conferenza programmatica voluta dal Collegio Ipasvi della provincia di Bari per fotografare lo stato dell'arte della professione. Sempre più qualificata, ha ribadito il presidente del Collegio Ipasvi, Saverio Andreula, proprio grazie al percorso universitario, ma spesso considerata di retrovia nel mondo sanitario, come ha sottolineato il dottor Marcello Bozzi, direttore delle professioni sanitarie nell'azienda ospedaliera all'Università di Siena. Il passo in avanti è arrivato durante il dibattito con gli interventi tra gli altri del direttore generale dell'azienda ospedaliera dell'Università di Bari, Vitangelo Dattoli, e del presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Bari, Filippo Anelli, sicuri che gli studenti universitari del corso di infermieristica non sono di serie B rispetto a quelli di medicina e che tra infermieri professionali e medici si possa lavorare in sinergia e non in condizioni di subalternità. Concetto rilanciato ancora dal dottor Bozzi, il cui grido d'allarme diventa anche una sorta d'atto d'accusa. Fa paura la crescita dell'infermiere? Professione che in Puglia fa registrare una crescita della domanda. Ci sono più di 5.000 ragazzi che vorrebbero iscriversi ai corsi universitari, a fronte di 440 posti disponibili, ma anche un pericoloso aumento della disoccupazione futura. Migliorare la qualità della formazione, a giudizio del presidente del collegio Ipasvi Saverio Andreula, è uno degli obiettivi da raggiungere nel più breve tempo possibile. Abbattere le percentuali di chi, con la laurea infermieristica, cerca un lavoro senza trovarlo, siamo all'80% e un'altra delle sfide da vincere.